Ha avuto la prontezza di riflessi di chiamare subito i carabinieri perché quella telefonata era troppo strana. È riuscita così a sventare una truffa. Protagonista una 94enne residente a Bassano del Grappa. La donna ha ricevuto un'insolita chiamata da un numero sconosciuto sul suo telefono fisso di casa da parte di un sedicente carabiniere. Nel corso della conversazione il finto militare gli ha comunicato che il figlio aveva provocato un grave incidente stradale e serviva che venissero versate diverse migliaia di euro per la sua tutela legale e per risarcire le lesioni che avrebbe provocato nel sinistro. L'anziana dopo una prima esitazione si è resa conto di essere vittima di un tentativo di truffa perché questo modus operandi dei malviventi era stato ampiamente illustrato proprio dai carabinieri durante le campagne di informazione sul territorio. La 94enne ha quindi chiamato subito il figlio e il 112 sventando la truffa e permettendo agli uomini dell'arma l'attivazione di un dispositivo al fine di tutelare la vittima ed evitare che altre persone fragili finiscano nella rete di questi individui senza scrupoli.